L'indice di questo mese si ha purtroppo la riprova di un aumento del costo della vita che in totale, a differenza dello scorso anno, ha un aumento dell'inflazione di 9,2%, cioè l'aumento dei prezzi del 9,2%, ma ciò che rappresenta la più grande preoccupazione sono gli aumenti dei prezzi dell'energia, del gas e dei beni alimentari che vedremo aumentare del 34% dallo scorso anno, quasi il 35% per l'energia e per quello che invece riguarda i prezzi dei beni alimentari il 12% da un anno all'altro. Quindi questi sono dati importanti assieme a tutta una serie di dati che chiaramente vengono stilati dall'ufficio di statistica del Comune e che sono fonte importante per chi appunto deve prendere decisioni dal punto di vista politico e chiaramente a questo punto vi deve essere un'inversione di rotta per delle decisioni che devono essere prese perché questa inflazione, questo aumento dei costi non è più sopportabile.